Una notte storica per i berlinesi e per il mondo intero. 50.000 persone hanno varcato il muro da est verso ovest, accolti dall'abbraccio fraterno di una città in festa. E le autorità della Germania comunista hanno cominciato oggi a demolire il muro. Un cibo di pollo in festa passa. I berlinesi dell'oro staclaio. Tanti giovani, giovanissimi in festa per l'Occidente, per la libertà, sapevano solo quello che avevano raccontato i loro genitori. Guardate questo film di pollo. Questo film di pollo è che tanto è che per gli occhi dei rocci, la famigerata polizia del popolo che tanto è che ha sparato per impedire l'opportunità del muro. C'è gioia, un'idea prelittura. Tanta gente stanotte era del fraspetto del muro e poi questa mattina è tornata al lavoro. Libertà, libertà, come scanderla. Posso dire che veramente posso passare. Questo è il fatto di venire per sempre per favore. E' l'ora, è l'ora per aspettare la 24 anni, meravigliosa. La porta di Dallecusca. Sopra, un monumento al distretto e pianificando che dobbiamo portare l'università. Riturato, un monumento al distretto e pianificando che dobbiamo portare l'università. Ma il numero di televisione è la più piena e completa di quella che ne va a fare l'appuntamento. I, I will be king And you, you will be queen And you, you will be king And you, you will be king And you, you will be king Just for one day Waken the heroes Waken the heroes Waken the heroes Just for one day Waken the heroes 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 Waken the heroes